Questa è Alessandra, Razer dal carattere determinato. Quando sale in macchina ama sentire il rumore pulito del motore, la ruota che freme sotto l'acceleratore, la marcia che ingrana, la ripresa vivace. Alessandra si ferma, ma solo per lo stretto necessario. Scatto, sicurezza, passione, controllo. Questi sono i segreti di una buona pilota. E anche di una buona mamma. Ci sono i segreti di una buona pilota. Ah